I primi accertamenti disposti dalla procura nella discarica Martucci all'interno della vasca di raccolta hanno dato i primi riscontri. Una trentina le anomalie finora rilevate dai tecnici. Per questo i sindaci di Mola e Conversano, Stefano Di Perna e Giuseppe Lovascio, presa carta e penna, hanno chiesto alla procura di Bari di estendere le indagini alla falda acquifera al fine di verificare se vi siano state eventuali infiltrazioni che possano aver determinato l'inquinamento. I sindaci hanno ritenuto opportuno rivolgersi direttamente ai pubblici ministeri Giorgio Bruno e Baldo Pisani affinché la fase di accertamento coinvolga anche le falde acquifere. I primi riscontri, stando a quanto scritto nella nota, hanno confermato i timori circa potenziali pericoli incombenti soprattutto sui territori di Mola di Bari e di Conversano, relativi all'intrusione di percolato nella falda acquifera nonché a probabili inquinamenti derivanti da altre sostanze potenzialmente contenute nello stesso percolato. Di Perna e Lovascio hanno chiesto espressamente il prelievo di campioni delle acque sotterranee da sottoporre ad analisi per la valutazione di quelli che sono i rischi eventualmente collegati con la salute dei cittadini. Le indagini che hanno portato al sequestro dei siti utilizzati negli anni 90 in piena emergenza rifiuti hanno preso origine dalle denunce di un ex operaio. Nei pozzi sono state rilevate tracce di metalli pesanti mentre la discarica di emergenza e soccorso risulta non ben impermeabilizzata. Per questo si attende l'esito dell'incidente probatorio disposto dal jeep Mastro Rilli che dovrà verificare se sia stata impiegata una sufficiente quantità di argilla e se nelle falde sia finito del percolato.